La maggior parte dei prodotti omiopatici contengono zucchero, solo zucchero, oppure acqua, acqua pura, e le aziende, prima di metterli in commercio, non fanno alcun tipo di test in doppio cieco per verificarne l'efficacia. Scommetto che qualcuno di voi adesso sta già scrivendo qualche commento tipo non è vero, chi ti paga, sono tutte balle, con me funziona, cosa stai dicendo, con me funziona, con me funziona! Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Se siete tra coloro che mi rispondono eh ma con me funziona, beh oggi non parliamo di omeopatia, oggi parliamo di voi. Quello che vi ho spiegato è conosciuto da ogni omeopata, potete benissimo chiederlo, ma è dichiarato anche sui siti delle varie aziende omeopatiche, la Boiron, Guna e così via tutte le altre, sia nei commenti al video precedente, sia sul post che ho fatto su Facebook, ho letto un sacco di commenti del tipo io prendo i prodotti omeopatici da dieci anni, li dio a mio figlio e non si è mai ammalato, quindi, quindi l'omeopatia funziona. Questo ovviamente dal punto di vista logico non è un ragionamento sensato. Come qualcuno ha risposto statisticamente se uno è in buona salute anche non prendendo niente non ci si ammala. Io quando i miei figli erano piccoli non gli ho mai praticamente dato nulla e non si sono mai ammalati. Ed è chiaro che in questo caso le pillole di zucchero servono molto di più a far star tranquilli i genitori che non a, diciamo, rinforzare le difese immunitarie del bambino, visto che c'è solo zucchero. Ma analizziamo meglio questo tipo di risposte. I due video precedenti sono stati costruiti appositamente attorno a due fatti. Il contenuto di solo zucchero della maggior parte delle pillole omeopatiche è il fatto che le continue utilizioni fanno sì che nella pillola finale non ci sia più praticamente neanche una molecola dell'eventuale principio attivo presente all'origine, nonostante i prodotti abbiano nomi come bella donna, pulsatilla, oscillococcinum e così via. E questi sono fatti delle certezze che non sono contestate neppure dagli omeopati e neanche, come dicevo nei due video precedenti, dalle aziende produttrici. A questi video mi si risponde con malcelato fastidio Ehi, ma come funziona? Oppure stai denigrando l'omeopatia? Oppure ancora prima di parlare devi studiare? Penso di avervi già dimostrato che quando parlo di un tema è perché lo conosco bene e anche in questo caso mi sono ovviamente documentato su questo e una serie di altri testi. Il punto però è che nessuna di queste reazioni contesta minimamente il fatto. E' come se io avessi detto nel video ah 2 più 2 fa 4 e uno mi rispondesse ah ma però per me funziona. Cosa c'entra? Non c'entra nulla! E infatti il motivo di queste risposte non è nel contestare il fatto, come vedremo fra un po'. Ma voi che prendete le pillole omeopatiche, prima di continuare, accettate il fatto che dentro ci sia solo zucchero? Io ora sono assolutamente certo che molti di voi sono arrabbiati. Sono arrabbiati con me, se statele guardando questo video magari avrete già commentato furiosamente sul video o sul blog o nel post di Facebook e così via. E' una cosa che ho visto spessissimo nel corso degli anni e non ultimo nei due video precedenti. ci sono persino degli insulti. Tutto tranquillo, è un atteggiamento perfettamente umano e normale. Ed è una cosa studiatissima dagli psicologi. Tutti noi esseri umani abbiamo delle convinzioni profonde e il cervello agisce nel proteggerle. In altre parole, quando viene esposto a dei fatti a dei fatti che possono mettere in crisi queste convinzioni profonde, specialmente se sono convinzioni legate all'immagine che noi abbiamo di noi stessi, alla nostra scala di valori, all'immagine che noi abbiamo del mondo, il nostro cervello innalza dei muri perché le vuole difendere a tutti i costi. Noi siamo refrattari ai cambiamenti di convinzione. Il nostro cervello non si fa alcun problema nello scartare dei fatti e nel non considerarli. Questo è un fenomeno studiatissimo dagli psicologi ed è molto utile da sapere e da tenere in conto quando si fa comunicazione su temi scientifici che nell'opinione pubblica spesso sono controversi come l'omeopatia, i vaccini, le nanoparticelle, gli OGM, le cellule staminali, il cambiamento climatico e così via. Questo tipo di convinzioni si cristallizzano ed è estremamente difficile da cambiare e soprattutto non si deve avere l'illusione di poterle cambiare semplicemente raccontando dei fatti che sono sì importanti durante il processo di divulgazione scientifica in questo caso, ma non possono essere il solo strumento per raggiungere le persone che si vuole raggiungere. Un muro classico e molto diffuso, che ho letto centinaia di volte nei commenti, è la risposta ma a me non interessa quello che dici perché su di me funziona. Quindi, questo è il sottointeso, quello che mi stai dicendo è falso. È indubbio che per certe cose possa funzionare perché per disturbi lievi è in atto quello che si chiama effetto placebo. Cioè in pratica se il cervello è convinto di assumere qualche cosa che pensa possa avere un qualche effetto fisiologico, beh il cervello stesso si mette a lavorare per produrre almeno in parte questo stesso effetto di guarigione. Questa è una cosa che può funzionare per esempio per stati lievi di ansia o di dolore. Chiaramente non può funzionare se uno ha in atto un'infezione batterica o virale o un avvelenamento o chissà quale altre cose per cui l'effetto placebo non ha assolutamente alcun effetto. Ma l'effetto placebo è talmente forte, e funziona ovviamente anche per i farmaci convenzionali, che durante lo studio clinico dell'efficacia dei farmaci deve essere assolutamente schermato. Ed è per questo che si fanno i test nel cosiddetto doppio cieco, cioè si prende un gruppo di persone ma solo a metà di queste persone si dà il farmaco che si vuole sperimentare, all'altra metà si dà quello che si chiama il placebo. Però le persone non devono sapere se stanno assumendo il placebo o se stanno assumendo il farmaco perché altrimenti il cervello stimola questo effetto placebo. Per poter mettere sul mercato un nuovo farmaco, tra le altre cose si deve superare questo tipo di test in cui l'efficacia di questo farmaco deve essere superiore a quella del placebo. Capite subito quindi perché non si fanno test clinici in doppio cieco per valutare l'efficacia dei farmaci omeopatici. Nessuno vieterebbe alle aziende produttrici di fare una sperimentazione classica per mettere in vendita un farmaco vero e proprio omeopatico. Questo non può accadere perché, come vi ho raccontato, poiché contiene solo zucchero dovrebbero riuscire a dimostrare che in cieco le pilloline di un tipo di zucchero sono più efficaci delle pilloline del placebo che contengono ancora zucchero e questo ovviamente non è possibile. Il placebo è talmente forte come effetto che bisogna schermare anche chi somministra la pillola perché agisce anche in questo modo quindi doppio cieco significa che non solo i pazienti non devono sapere durante i test se stanno assumendo un farmaco o la pillolina di zucchero ma neppure il medico che la prescrive perché si è dimostrato che anche il sapere questo fatto con una serie di meccanismi non verbali si riesce in qualche modo a influenzare il paziente. E l'effetto placebo si vede, anche se molti continuano a sostenere di no nei commenti ma vi assicuro che ci sono degli studi che dimostrano che l'effetto placebo si trova anche nei bambini e negli animali come? Come vi ho detto attraverso le persone che somministrano quindi attraverso il padrone dell'animale o attraverso i genitori. Il fatto che sia solamente un effetto placebo molto spesso non viene accettato e quindi viene rifiutato. Tutto a posto. Come vi ho detto non mi interessa convincere nessuno di voi che sta già utilizzando con successo secondo i vostri criteri le pillole emeopatiche. A me interessa fare divulgazione scientifica e raccontare a quelli che ancora non hanno cristallizzato la loro convinzione cosa c'è esattamente dentro questi prodotti. Come spiegavo prima è assolutamente normale per l'essere umano rifiutare dei fatti che vanno contro le proprie convinzioni, specialmente se sono questioni identitarie. Pensate a una mamma che in assoluta buona fede da un prodotto omeopatico al proprio bambino pensando o di curarlo oppure pensando di rafforzare le difese immunitarie. È in assoluta buona fede. È ovvio che se io la espongo al fatto che c'è solo zucchero dentro in queste pillole si può creare e quasi sempre si crea una reazione di rifiuto perché almeno inconsciamente il cervello ragiona in questa maniera dice ma tu mi stai dicendo che sono cretina o cretino perché sto dando solamente delle palline di zucchero pensando che siano efficaci a mio figlio? Mi stai dicendo che non sono un buon genitore? Ma fottiti! Questa è la reazione diciamo che il cervello attua come difesa alla propria immagine di sé di buon genitore e quindi scarta il fatto che nelle pillole c'è solo zucchero e lo scarta non in base a un procedimento razionale tipo guarda c'è questo studio, queste analisi chimiche che hanno dimostrato che dentro effettivamente c'è qualche cosa no lo scarta in base a qualsiasi appiglio venga in mente anche se logicamente non ha nessun senso nel mio piccolo lo fanno per esempio in questo canale dicendo eh ma come ci si può fidare da uno che ha Spider-Man sul muro o che ha un ragno messo qui sul camice come se la cosa avesse un qualche nesso logico in realtà ovviamente non ce l'ha il fatto che io sia un collezionista appassionato di fumetti e abbia Spider-Man appiccicato al muro se volete, non so, ho anche V for Vendetta qui ecco non ha ovviamente nessun tipo di legame logico col fatto che io vi possa dare delle informazioni più o meno accurate, più o meno veritiere ma questo non importa perché il ragionamento non è un ragionamento di tipo razionale il ragionamento è cretino ma le persone non sono cretine perché come vi ho detto è un effetto psicologico assolutamente studiato per cui è inutile come vedo che qualcuno fa nei commenti andare lì a insultarle perché non serve a niente è un tipico atteggiamento che tutti noi in vari campi abbiamo nessuno di noi è escluso, neppure io certo non in questo campo ma in altri ho di sicuro delle convinzioni che i fatti non riescono a scalfire avere la consapevolezza di questo ci può servire anche per reagire in una maniera diciamo meno esagerata quando alcune persone innalzano il muro per difendere le proprie convinzioni quindi è inutile andare a insultare le persone che pensano di curarsi con l'omeopatia molto molto più grave invece dal mio punto di vista è il fatto che medici e pediatri con tanto di laurea prescrivano l'omeopatia non pensando all'effetto placebo ma perché pensano davvero che sia efficace qualcuno nei commenti mi chiedeva come è possibile che dei medici possano prescrivere delle pillole omeopatiche beh in realtà la cosa è molto più diffusa di quello che si possa pensare anche perché i medici sono abituati, consciamente o meno, a sfruttare l'effetto placebo è indubbio che funzioni anche per altri tipi di medicinali convenzionali e purtroppo troppo spesso andiamo dai medici al giorno d'oggi anche con disturbi lievi ma non siamo disposti ad accettare di uscire dallo studio semplicemente con un consiglio tipo aspetta che passerà tra qualche giorno oppure vai a farti una passeggiata in montagna no, vogliamo uscire dallo studio medico con delle pillole e quindi ecco che abbiamo medici che prescrivono farmaci che sono di fatto inutili abbiamo l'ipermedicalizzazione della medicina e questo può portare anche a delle gravi conseguenze ed è indubbio che sia meglio una pillolina di zucchero che non prescrivere un antibiotico nei casi in cui questo non serva se ho un'infezione virale è inutile, almeno all'inizio, dare un antibiotico perché questo purtroppo crea dei problemi e aumentano purtroppo i batteri resistenti agli antibiotici che noi abbiamo a disposizione il problema però è che a volte l'antibiotico o il farmaco convenzionale o l'intervento serve non si deve dare l'impressione che l'omeopatia possa curare anche altre cose tumori, diabete, diabete cioè sto dando delle pillole di zucchero a chi ha il diabete ecco non si deve dare l'impressione perché poi succedono anche le tragedie ma torniamo ai medici, poiché non si può negare che qui dentro ci sia solo zucchero come del resto dichiarato anche dalle aziende come vi ho detto in molti medici si crea una sorta di dissonanza cognitiva anche loro hanno le loro convinzioni ma evidentemente si ricordano dal primo anno di università nel corso di chimica che lì dentro, a conti fatti, non ci può essere neanche un atomo una molecola del prodotto iniziale non riescono allora a conciliare questo fatto con la loro convinzione che l'omeopatia funzioni hanno bisogno di trovare una via d'uscita e quindi ecco spiegato il fiorire di tutta una serie di ipotesi e di storielle bislacche che non hanno alcun scontro scientifico e quindi ci si inventa la memoria dell'acqua ci si inventa particolari strutture a cluster delle molecole d'acqua ci si inventa una nuova teoria termodinamica, vibrazioni strane, energie fino ad arrivare alla supercazzola quantistica adesso negli ultimi anni è di moda appiccicare la parola magica meccanica quantistica per giustificare qualsiasi bufala, qualsiasi fesseria ogni tanto io faccio anche dei corsi di meccanica quantistica anzi in realtà questo è il mio settore di ricerca principale e ai miei studenti ogni tanto racconto che ormai il termine quantistico viene associato alle cose più disparate la cosmetica quantistica, l'agricoltura quantistica sono tutte fesserie perché non c'è assolutamente niente di vero ma servono, come vi dicevo prima, ad alcune persone per giustificarsi diciamo in modo pseudorazionale quello che in realtà è solo un tentativo del cervello di coniugare diciamo una visione razionale della medicina con il fatto che dentro ci sia solo zucchero e quindi in qualche modo il cervello è disposto persino ad accettare queste idee bislacche che ripeto nessuno ha mai dimostrato e anche dal punto di vista teorico non stanno in piedi e non esiste nessun tipo di esperimento che abbia dimostrato che l'acqua abbia della memoria che ci siano degli effetti quantistici coinvolti qui negli zuccherini in realtà come dicevo è un modo per il cervello di non rifiutare il fatto ma di inglobarlo sempre all'interno della convinzione persistente inventandosi un qualche cosa che in realtà non esiste quindi sì è solo zucchero però c'è l'effetto quantistico però c'è la memoria dell'acqua però ci sono i cluster di acqua ci sono gli effetti termodinamici di punto zero e così via di supercazzola in supercazzola dal punto di vista scientifico però non c'è alcun bisogno di inventarsi queste teorie fantasiose perché un punto fermo della scienza è che io mi debba mettere a cercare delle ipotesi costruire delle teorie per spiegare dei fatti solamente dopo che io ho accertato con sicurezza che questi fatti sono effettivamente esistenti in altre parole io non mi metto a costruire una teoria di come facciano gli unicorni a volare se prima non dimostro che effettivamente gli unicorni esistono siccome gli unicorni non esistono è inutile non mi ci metto neanche a inventarmi una teoria per spiegare come gli unicorni possano volare per oggi è finito e se vi piacciono i miei video condivideteli sui vostri social ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere